domanda secca ride bene chi ride ultimo Becky Lynch ultima qualificata al Money in the Bank better match femminile se lo vince lei io tempo fa dissi che secondo me lei è la iper favorita perché è l'unica l'unico personaggio al momento al femminile che è stato costruito per avere la fame e la voglia di rivincita proprio si vede che è incazzata nera col mondo per aver perso il titolo e poi soprattutto anche la sconfitta che ha avuto nel triple threat match che gli hanno rubato il conteggio e l'ha fatta ancora più arrabbiare e secondo me non c'è personaggio migliore tra quelle scelte per il Money in the Bank per vincere la valigetta e prendersi la sua la sua rivincita io lo dissi già diverse settimane fa al bar wrestling entertainment con gli altri ragazzi io penso che lei sia la iper favorita beh guardiamo un po' il pool delle partecipanti teniamo presente che noi usiamo la ragione ma il wrestling e soprattutto la WWE negli ultimi anni con la valigetta del Money in the Bank ha rischiato un po' ci ha proposto dei risultati sorprendenti tuttavia guardando le qualificate beh se utilizzo il cervello molte mi verrebbe da escluderle per la valigetta Liv Morgan ha già concorso di recente per il titolo e in più è face come la teorica campionessa Alexa Bliss non ha una storia da quando è rientrata e ha combattuto in Arabia nell'Elimination Chamber poi si è fermata per sposarsi e poi è tornata è un cane sciolto non ci hanno spiegato bene cosa vuole a parte che è una competitor importante con un bel pedigree però non ci hanno detto null'altro Asuka è appena uscita dalla scena titolata di Ero e Shotzi ha già disputato un match di recente ha già avuto a che fare con Ronda Rousey quindi rimangono Lessie Evans sulla quale la federazione ha perso un po' di spinta perché la sballottata teoricamente tra Rowe e SmackDown dopo tutti i suoi discorsi i suoi monologhi il rientro nel ring è stato troppo procrastinato comunque è una novità è una contender nuova per Ronda o eventualmente anche per la campionessa di Rowe Raquel Rodriguez che è una giovane che è grossa che ha un fisico che può piacere alla dirigenza un fisico raro non semplice da trovare quindi scelta di chiamiamola gioventù visiva oppure c'è Becky cioè le tre più probabili a meno che non ci regalino una scelta pazza sono loro però cosa rema contro Becky è che se vince la valigetta poi la storia è che diventa un pericolo costante quindi può essere in cima agli interessi della compagnia perché la profila lungamente ma finché la campionessa è bianca che facciamo portiamo avanti questa storia ancora non ha già esaurito quello che doveva dare per questo sono un po' recalcitrante a pronosticare Becky io ho come l'impressione che stiano pensando ad una ragazza di SmackDown perché a SmackDown se Ronda Rousey resta campionessa come credo c'è solo Charlotte Flair cioè torna Charlotte dal matrimonio ma poi c'è Tabula Rasa cioè le altre non hanno una serie di vittorie importanti che giustificano una sfida con Ronda possono fare un match a più donne ad eliminazione di qualificazione però avere una Ronda sotto scacco dalla valigetta mi sembrerebbe più interessante di avere una bianca Belair nella stessa situazione però secondo me la chiave di volta è che secondo me bisogna anche vedere cosa vogliono fare con il draft nel senso che a me sembra abbastanza telefonato che a Wrestlemania finalmente Becky Lynch e Ronda Rousey si dovranno affrontare cioè mi sembra il money match femminile e quindi secondo me potrebbe anche capitare che i campioni vengono switchati no e quindi con Ronda Rousey che va a Raw e Bianca Bella che è a SmackDown è una cosa che tra l'altro la WWE ha già fatto quindi non è che sarebbe neanche così clamoroso secondo me serve questo incastro cioè come faccio ad arrivare alla Road to Wrestlemania con con Ronda Rousey campione oppure giustificare una che Becky Lynch possa vincere e possa possa essere la contender numero uno la Rumble Becky Lynch l'ha già vinta quindi io faccio fatica a pensare per carità può anche vincerla però secondo me l'incastro perfetto è che lei utilizzi la valigetta in un modo magari scaltro ed efficace contro Ronda Rousey o qualcosa del genere io per le altre faccio fatica a trovare degli incasti perché poi probabilmente Bianca 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 Belair l'avversario credibile secondo me per Bianca Belair al momento ipotizzando il fatto che Asuka e Becky Lynch l'hanno già battute Bianca Belair può andare contro Rachel Rodriguez può andare contro le contendenti di Smackdown quindi io sinceramente faccio fatica a trovare l'incastro per arrivare poi a quello che è secondo me l'obiettivo della WWE cioè che a Wrestlemania dopo la sconfitta beffarda del main event di Wrestlemania 35 chiaramente ci deve essere la faida Ronda Rousey e Becky Lynch secondo me non devono apparecchiarla a luglio cioè c'è una Royal Rumble che dà una force contendership e quant'altro cioè pensare che debbano già spostare le bocce a luglio per il prossimo aprile mi sembra un po' troppo presto non trovi è troppo presto però comunque la valigetta non è che la devi la devi per forza incassare in estate poi poi te la puoi giocare poi comunque non sarebbe non sarebbe neanche la prima volta che comunque la WWE presenta ti fanno usare il match di Wrestlemania già da chiamamolo SummerSlam non sarebbe la prima volta quindi secondo me può io vedo questo incastro qua l'unico secondo me che che potrebbe essere inedito rispetto a continuare a mandare avanti la rivalità con Bianca Belair che probabilmente anche Becky magari la storia dice questo ok ma a me Bianca Belair mi sta facendo impazzire mi sta letteralmente facendo incazzare basta non riesco a vincere anche se sono convinta che anche quando sono stata la migliore questa qui mi ruba i pin mi ruba le vittorie sai che c'è io non ti voglio più vedere nella mia vita me ne vado a romper le palle all'altra campionessa e comunque vi vento campionessa nello stesso modo non so una roba del genere in chat vedo che parlano di un fantascenario con il ritorno di Beli che stende qualcuno e le prende il posto ora io non sono un fan di una cosa del genere innanzitutto perché andrebbe ad annullare i match di qualifica che hanno fatto e poi mi sembrerebbe un modo molto cheap per ributtarla dentro cioè ok shock value ok wow che sorpresa però a quel punto se basta una che torna o uno che pesta un qualificato le regole del mondo di fantasia che viviamo e che vediamo traballano troppo lo hanno già fatto c'è già stato però non abuserei di questo artificio narrativo quindi vorrei rivedere Beli chiaramente ma non con un ritorno fatto così non sarebbe neanche secondo me abbastanza per la portata del personaggio forse cioè sarebbe troppo cioè il ritorno di Beli secondo me si può vendere molto meglio a mio parere quindi io immagino che tornerà in una maniera diversa invece domanda un po' curiosa ci siamo dati una spiegazione del perché i partecipanti sono sette ma ragionevolmente no non lo so attraverso quale algoritmo matematico abbiano deciso che siano e fossero sette tu hai qualche idea ma io che io ricordi la WWE ho iniziato con il format A6 ho visto dei format A8 e probabilmente il sette è la è la soluzione di compromesso e magari si sono accorti che che fare il match con le scale a sette uomini a sette donne chi che siano possa portare possa rendere più vivace il match senza avere dei buchi di minutaggio all'interno del match dove magari le sequenze sono piuttosto lente o anonime quindi probabilmente è una scelta di convenienza l'ultima l'ultima volta però che sono stati in sette poi hanno detto che Brock Lesnar effettivamente era l'ottavo membro era l'ottavo partecipante al Money in the Bank a sorpresa quindi sai effettivamente lo scenario che prospettava il nostro amico chiaramente è possibile l'hanno già fatto però io mi ricordo che comunque non fu stato così apprezzato perché era molto forzato quindi e poi non lo so forse per Brock Lesnar lo puoi anche fare perché è un personaggio clamoroso cioè entra arriva questo come uno si ritrova Brock Lesnar che arriva addosso come un treno mentre tu ti sei fatto mezz'ora di match a spaccarti tra le scale e sinceramente mi sembra molto più desolante rispetto all'arrivo di Bailey con tutto il rispetto restiamo su Money in the Bank ma passiamo alla controparte maschile ora so che manca ancora un qualificato abbiamo detto ride bene chi ride ultimo Becky Lynch ultima qualificata in pole position per molti per la vittoria lo è anche Riddle che nel momento in cui stiamo parlando è per tempistica l'ultimo che ha stampato e ha staccato il biglietto per il Money in the Bank maschile Riddle bene chi ride ultimo non lo so non lo so io sai Michele io come la penso io te l'ho già detto che secondo me se si deve fare qualcosa di magico deve vincere Samy Zane cioè deve secondo me anche questa questa storia l'hanno già l'hanno già fatta un po' annusare anche con l'ultimo promo che c'è stato a Smackdown con Paul Heyman che si è arrabbiato con l'idea che Samy Zane durante il po' diceva io vincerò il Money in the Bank e poi e poi e poi cosa vuoi fare e poi certamente proteggerò il tribal chief da ogni da ogni nemico non lo incasserò mai contro di lui secondo me verrebbe su una storia bellissima memorabile quindi io credo che qui ci sarà una sorpresa se il 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 Money in the Bank femminile vedrà effettivamente la superstar top vincere probabilmente il Money in the Bank a mio parere qui ci sarà un underdog a vincere il vero underdog a vincere la valigetta e provare a impensierire i campioni ora a meno che WB non cambi i piani l'ultimo match di qualificazione dovrebbe essere Ezekiel contro Kevin Owens che non si è disputato a Raw perché pare che Kevin Owens abbia avuto un contrattempo di minore e di lieve entità però sappiamo che la federazione a volte rimischia le carte immaginiamo che ci sia uno dei due su questa line up gli atleti che maggiormente hanno bisogno della valigetta o che comunque se ne potrebbero giovare in modo importantissimo in chiave di storia in chiave narrativa sono Riddle e Seth Rollins Riddle perché non avrà più occasioni contro Roman Reigns quindi la valigetta riapre uno scenario e gli dà un vantaggio strategico quindi stavolta con la valigetta giocherebbe lui in vantaggio sul capo tribù con l'idea che continua ad esternare durante tutti i suoi match di vendicare Randy Orton quindi vinco la valigetta rientro in corsa Randy sono ancora in gara e lo faccio per te Seth Rollins invece con la valigetta ci ha già mostrato ciò di cui è capace quindi andremo a stuzzicare a riaccendere il fuoco delle nostre fantasie e in più è uno degli avversari che Roman Reigns non ha ancora sconfitto in modo decisivo sappiamo che Drew McIntyre ha già sfidato Roman per Clash of the Castle in Europa non so perché lo hanno fatto dire prima di Money in the Bank e prima di Summerslam comunque lui a parole lo ha sfidato il match non è ufficiale per territorialità europea se Roman fosse campione il suo incontro potrebbe averlo Omos mi sembra un po' azzardato Shimus atleta di complemento bravissimo ecco lui può essere uno in stile Carmella dei sottovalutati anche se è arrivato al top tante volte ma negli ultimi anni è stato lontano dalla cima e poi si c'è la carta matta Sammy Zane che farebbe piacere a tanti vedo in chat però sarebbe molto molto lontano da quello che fa di solito WWE però ci starebbe cioè io se dovessi dire cosa mi divertirebbe di più Sammy Zane tutta la vita narrativamente sono più utili Riddle e Seth Rollins cioè a lungo termine per preservare quella sorta di non dico importanza ma di difficoltà ad entrare al top ecco io la valigetta la piazzeresso uno dei due però Sammy è intrigante Sammy è intrigante e allora Michele perché limitare i nostri sogni e questa la mia la mia la mia la mia idea cioè alla fine alla fine Riddle secondo me è un grande sicuramente un grande atleta per carità secondo me si potrà rifare in qualche altro modo poi Seth Rollins comunque non tecnicamente non gli servirebbe neanche la valigetta perché lui può sempre dire Roman caro Roman tu non mi hai mai battuto cioè tu dici tanto che non c'è più nessuno quindi chiaramente lui potrebbe chiedere un match anche senza senza l'utilizzo della valigetta certamente so benissimo che la valigetta dà un vantaggio strategico però cioè se da una parte noi diciamo Becky Lynch e io dall'altra parte voglio qualcosa che mi faccia veramente strappare il cuore e dire questo è vostro tenetevelo e l'avete conquistato ve lo siete meritato perché secondo me lì esce con Poleman cioè quel promo di Poleman che lo guardava in cagnesco come per dire come come peggio dei mafiosi lo guardavano quando sono veramente incazzati peggio del padrino incazzato cioè a me quella roba lì mi ha fatto veramente morire da ridere eh sì perché Samy Zen dice no non incasso con Roman Reigns cioè tutt'al più incasso con Brock Lesnar sì sì ma cosa vuoi fare cioè pensi che Brock Lesnar vinca allora cioè lo guarda come dire oh sì ma cosa stai dicendo bellissimo sarebbe bellissimo quest'anno comunque c'è sul sugli uomini forse più che sulle donne c'è diversa incertezza e poi c'è questo uomo misterioso la cui identità verrà a galla a breve è molto dubitativo che sia Cody Rhodes se fosse Cody Rhodes verrebbe giù l'arena però abbiamo visto a Ro che ha parlato hanno mostrato un filmato del suo recupero sembra alquanto irragionevole che rischi così tanto la sua salute per rientrare in corsa in così breve tempo sarebbe una cosa folle dubito che se le informazioni che abbiamo sul suo infortunio siano vere c'è dubito che i medici WWE gli possano dare il permesso per esibirsi quindi tenderei a dimenticarmene o poi se lotta sarebbe la più grande sorpresa da quando Sina entrò nella Rumble malgrado l'infortunio anche lui ai pettorali detto ciò vi ricordo quello che è un mio pensiero la valigetta del Money in the Bank teoricamente ti dà una chance per un titolo e Roman i titoli non li ha uniti in una sola in una sola cintura quindi io rimango con questa sensazione che potrebbe essere sbagliata che la valigetta del Money in the Bank potrebbe servire a riseparare le cinture perché Raw ha questo problema cioè non c'è un campione è Roman ma Roman storicamente appare a Smackdown quando compare a Raw ci è andato solo a dire guardate Smackdown che vi dico cosa farò quindi una riscissione delle cinture è doverosa è dovuta serve come l'aria e la valigetta potrebbe essere il pretesto con Adam Pearce che magari dice in stile a Zeke Garbugli sono andato a vedere c'è la clausola iscritta in piccolo e bla 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 insomma potrebbe essere un modo per salvarsi in corner Roman perde senza perdere in maniera eclatante perché la valigetta viene sfruttata in un modo vantaggioso per il possessore però rimane campione di qualcosa e finalmente torniamo ai due campioni allora ti metto in testa a questo scenario Sami Zayn vince il Money in the Bank e però lo vuole incassare contro il campione che probabilmente sarà Roman Reigns allora magari incassa e dice ma no Roman senti no non voglio ribatch se vuoi ti do la cintura così almeno siamo tutti e due felici potrebbe essere un'idea così abbiamo chiuso il cerchio e non subisce la vendetta del capo tribù esatto va bene può essere un'idea ci sta ci sta eh ci sta detto questo io vorrei passare a quello che credo possa essere il match più difficile da pronosticare per Money in the Bank o almeno io la vedo così posso sbagliarmi ma theory giovane in rampa di lancio che sin qui ha dimostrato di saper ammortizzare molto bene le sconfitte contro un Bobby Lashley che arriva da un'annata strepitosa dove è stato il numero uno a row a più riprese da una rivalità vinta con Omos e con un forte desiderio di riaffermarsi al top aggiungo anche che è forse il primo vero match importante per theory cioè finalmente è contro un main eventer riconosciuto e dunque è vero che sa incassare le sconfitte ma se inizia a perdere con fin troppa frequenza poi magari la gente storce il naso e ultimo c'è anche l'ingrediente John Cena e difficilmente sarà money in the bank mai dire mai come dici tu non limitiamo la nostra fantasia però un John Cena contro theory paradossalmente se mai dovessero farlo a Summerslam parte con un appeal maggiore se theory non è campione perché libera le caselle di tutti i risultati possibili ma allora io sono la mia previsione su questo match è che secondo me a Raw mancando il super campione secondo me questo match lo vincerà Bobby Lashley perché manca il secondo me il main eventer con la cintura e quindi per theory non è che sarebbe una sconfitta da come dire che lo seppellisce definitivamente comunque Bobby Lashley è stato campione di WWE anche se l'ha battuto sporco ha battuto Brock Lesnar ha battuto Drew McIntyre cioè è uno che ha battuto i migliori quindi non sarebbe una cosa che che lo farebbe calare nelle gerarchie tuttavia adesso mi verrebbe in mente un altro scenario che magari il signor McMahon vedendo che theory ha perso il titolo dice no questo ragazzo non può perdere adesso lo aiuterò ancora dentro nel money in the bank ladder match proviamo a vincere la valigetta no potrebbe anche essere questo una 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 possibilità quindi nel caso in cui nel caso in cui quel match tra Ezekiel e Kevin Owens effettivamente non riescono a rischedularlo magari oppure potrebbero rimettere comunque che il capo di tutti decide lui può mettere chi vuole io penso che comunque la scelta sarà su Bobby Lashley perché per questo motivo a lui a Raw manca il campione il super campione con la cintura cioè il super main eventer e poi devo dire che Bobby Lashley a me in questo ultimo periodo mi sta piacendo molto ha conquistato i fan secondo me sarebbe ingiusto una brutta scelta secondo me poter buttare nel cestino quello che ha costruito in questi mesi Bobby Lashley col pubblico questa è la mia idea tu oggi hai bevuto latte di volpe perché hai una fantasia galoppante che nitrisce cioè questa idea di teori che perde che va a piangere da Vince e Vince che dice che ci vuole ti metto nel morning in the bank lo facciamo 8 e poi lui vince in qualche modo di fortuna con una botta di sedere colossale cioè mi piace anche questa come idea adesso sono il più giovane vincitore del morning in the bank cioè non so se è vero bisognerebbe guardare negli archivi però oh dovrebbero ingaggiarci come sceneggiatori cioè bellissima anche questa come idea cioè sono tutti contenti alla fine farebbe anche parte del personaggio no? che lui dice cioè teori è stato costruito con l'idea expect the unexpected no? cioè con Vince M&M che gli dice questa cosa qua questa frase mantra expect the unexpected quanto potrebbe essere più inaspettato di uno scenario del genere? da telecronista sarebbe fantastico proprio perché la chiusura finale di lui con la valigetta sarebbe proprio questa aspettatevi l'inaspettato cioè teori al suo motto cioè lo ha fatto finalmente suo cioè aspettatevi l'inaspettato ed è successo lui non dico che è l'uomo dei miracoli ma è l'uomo che fa accadere cose quasi impossibili mi piace quindi l'accendiamo delirio poi Seven Feet poi piangerai all'idea se tutto si avvererà scommettiamo qualcosa vediamo chi ha il coraggio allora McNeon che fa ripartire il match lo abbiamo già visto secondo me diventerebbe un ostacolo troppo insormontabile perché poi deve essere lì a farlo ripartire sempre perché una volta sì e una no quindi non lo so eviterei un po' questo scenario invece hai perso ormai l'arbitro ha contato però c'è un paracadute c'è una scialuppa di salvataggio questo mi piace e la domanda è adesso vi faccio scorrere un po' gli incontri cioè ho scelto in maniera corretta questo è il match più difficile da pronosticare o è più difficile Bianca contro Carmella o il Money in the Bank femminile o Natalia contro Ronda Rousey o il Money in the Bank maschile o gli Strip Profits contro gli Usos dopo parleremo di Montez Ford cioè è davvero questo il match più difficile da pronosticare sì secondo me sì comunque è difficile da pronosticare perché qui è veramente un match in cui si vedrà esattamente di che passo è fatto Theory perché poi alla fine se vincesse anche Theory cioè sarebbe lui chiaramente se vincesse contro Bobby Lashley sarebbe una roba clamorosa cioè farebbe un salto nelle gerarchie enorme perché però è anche anche Bobby Lashley ricordiamoci che è molto potente è molto forte viene anche da da una striscia chiamavola vincente contro Mosso io non sarei neanche così sorpreso se se davvero vincesse Lashley cioè non cioè ripeto non sarebbe neanche una una vergogna poter perdere contro Bobby Lashley cioè qui parliamo di un atleta super capisco che parliamo di wrestling che chiaramente ha un predeterminato chiaramente però qui parliamo di un personaggio che è veramente l'essenza della del super atleta cioè non c'è niente da vergognarsi a perdere conto di lui prima di passare al prossimo argomento vi ricordo spargete la voce che noi saremo in live per la live reaction quindi in diretta tra sabato e domenica alla una di notte iniziamo col kick off qui su twitch se volete godervi la serata con un po' di barahonda saremo in tanti credo ognuno si guarda l'evento a casa sua sul wb network oppure se non ce l'ha lo segue attraverso di noi con le parole ma faremo una sorta di salotto virtuale quindi commento e analisi dei match in diretta non commento televisivo e scambio di opinioni può essere un modo se siete da soli a guardare il wrestling per farlo in compagnia per avere qualche voce in più nel vostro salotto o nella vostra camera abbassate leggermente l'audio del wb network alzate quello di twitch e ci divertiamo e stavolta ci sono anch'io visto che l'evento è di sabato non è di domenica e ciò mi permette di partecipare quindi fatevi il classico nodo al fazzoletto e soprattutto diffondete la news eh mi raccomando tra sabato e domenica iniziamo alla una e portate da mangiare e portate da mangiare e da bere rifornitevi a casa vostra di tutto ciò che è necessario per fare annuttata eh grazie a tutti 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 grazie a tutti